Salve a tutti, sono qui con Manuela Pompas, giornalista e scrittrice, ha fatto tantissimi libri su diversi argomenti che andremo piano piano a sviscerare durante la serata e fondatrice del web magazine Karma News. Ciao Manuela. Ciao Angela, sono contenta di essere sul tuo terrazzo. Benvenuta, benvenuta. Allora Manuela, io ti ho conosciuta anche se tu ovviamente come è successo anche per un altro mio intervistato, ci siamo visti ad una manifestazione sul futuro, sull'undizia sul futuro, adesso non mi ricordo com'era il titolo della manifestazione e mi era comunque rimasto impresso il tuo intervento, però poi ho cercato diversi argomenti eccetera, ma non pensavo espressamente a te. Poi Leonardo Polverelli, che come dicevo la volta in Sesa, mi ha detto ma l'hai intervistata? Allora eri a quella manifestazione dove c'era anche tu e io. Sì, 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 sì. E quindi ho detto no, no, la devo intervistare, ha ragione, meno male che me l'hai ricordato. Quindi sono felicissima veramente di averti qui stasera. Bene, noi diciamo allora, io ovviamente non ricordo, ma perché non ho più memoria, però ricordo Leonardo perché mi ha dedicato una canzone. Sì, sì, ma lui è felicissimo, vero? Sì, sì. E lui ha composto una cosa per me. Bravissimo, bravissimo. Poi se ti capita guarda l'intervista che gli ho fatto sul mio canale YouTube. Allora, parliamo in generale di sensitività che comprende tantissime cose e poi vediamo un po' su che cosa ci attira di più, diciamo, questo intervento. Vediamo come va. Guarda, la sensitività è la prima delle cose di cui mi sono occupata. Ecco, bene. Ma io da bambina avevo delle piccole cose, delle intuizioni, ma per un bambino quello che vive è tutto normale, perché se io ti vedo non ti dico Angela guarda che ti vedo, per scontato che sia normale. Per cui avevo delle percezioni da piccola, delle telepatie, ma cose piccole e non cose clattanti, che però mi ricordo molto bene che erano una forma di sensitività blanda, come può vivere una bambina. Sì. E poi anche al liceo ho avuto qualche episodio in cui ho influenzato, mi sono divertita a influenzare il professore, dicono adesso mi interroghi su questa cosa, non mi interroghi. Bellissimo. Hai capito? Perché non sapevo niente. Io ho cominciato a fare la giornalista a vent'anni, sono entrata a gioia a vent'anni e poi ho cominciato a scrivere, non subito, ma qualche anno dopo, insomma, quattro, cinque anni dopo. E ho fatto una prima inchiesta, stiamo parlando del settanta, quindi puoi ben immaginare questi argomenti, non ne parlavano nessuno. Proprio completamente oscuro a tutti quanti, insomma. Intervistando Fellini, intervistando un altro regista a Roma che aveva fatto un film su Italia, adesso non mi ricordo, non mi ricordo il titolo, Roma magica, Italia magica, non mi ricordo. Avevo, Fellini mi aveva presentato una pittrice straordinaria che era una media, una donna che mi ricordo, poi era una scosciata che invece era una bellissima persona, era una ragazzina timida, ero all'inizio, hai capito? Sì, però io, senza saperlo, io ho sempre pensato che si potesse leggere la personalità dell'altro negli occhi e portavo le frange giù perché così nessuno poteva leggere dentro di me. Ah, ecco, quindi ti nascondevi. Era una memoria di vita precedente di cui non ero consapevole. Ah, ecco. E come sei arrivata a capirlo? Aspetta, eh, perché volevo prima raccontarti un'altra cosa. Per cui ho come giornalista cominciato a intervistare i sensitivi, i guattori, i medium e i primi personaggi sia a Roma che a Milano che ho incontrato erano a parte Fellini dei grandi imbroglioni, a parte queste tre persone che ti ho nominato. E io scapivo che erano imbroglioni, eh, perché avevo un'intuizione, avevo un naso, io dico che avevo un naso. E dicevo, questi sono tutti imbroglioni, ma questo è il mio ambiente, cioè questa è la mia vita. E poi piano piano ho conosciuto delle persone interessanti, ho letto, ho studiato e nell'ottanta, perché io ti sto parlando del settanta, tu qui fai un po' di... io ho trent'anni, ma fai un po' di conti. Trentuno, dai, ce ne hai trentuno. No, trentacinque. Ah, trentacinque. E io dicevo, sì, sono imbroglioni, ma questo è il mio mondo. E poi ho cominciato a conoscere, a fare dei corsi, di dinamica mentale, di rilassamento, di yoga, insomma, di tutte queste tematiche, a conoscere i sensitivi. E il mio primo libro, che è ancora oggi sul mercato, si chiama Siamo tutti sensitivi, che è quello che io penso. Cioè, noi abbiamo un potenziale che è meno del 10%, soprattutto gli uomini, noi ne abbiamo un po' di più col cervello destro. Sì. A me ne aveva 14, credo che nessuno arrivi a 20 sulla Terra, quindi abbiamo dei limiti enormi, ma dipendono anche da noi. Perché il cervello si riattiva lavorando. Cioè, nel momento che io non so dipingere e comincio a prendere il pennello in mano, o non so fare le tabelline e comincio a studiarle, ci sono delle aree del cervello che si attivano con il lavoro. Certo. Se noi sapessimo che facendo gli esercizi di telepatia l'attiviamo, lavoreremo molto di più, cioè studieremo più, dedicheremo più tempo a studiare ognuno quello per il quale portato. E io ero convinta, ma lo ero anche da bambina prima di entrare in questo mondo, che tutti abbiamo delle possibilità. Quando io vado dai grandi personaggi, ma questa è una cosa istintiva ancora oggi, non so, role, piuttosto che persone che sanno fare delle cose particolari, che leggono il pensiero o il futuro, io dico, beh, perché io no? Perché io no? Voglio avere... Esatto. Mi ricordo mio figlio, quando aveva sette anni, io l'ho portato a intervistare una bimba che piegava i metalli con la mente. Ah, accidenti. Io li piegava, no? Anche senza toccarli. Poi siamo andati via da questa bimba, che aveva questo fenomeno, si chiamavano i Mirigheller, sai, ti ricordi Uri Gheller che piegava i metalli? Sì, come no, certo. E lui era arrabbiatissimo con me, e io ho detto, ma che cos'hai? Perché non me l'hai mai insegnato? Perché anche per lui, dice, come? Se lo sa fare lei, lo posso fare anch'io. Ma è così. Ma è così, certo. E' chiaro che Mozart è un genio e quello che suona al piano da un anno è un allievo, ma tutti possiamo incamminarci su una strada di conoscenze, no? E di talenti. Poi c'è chi, magari qualcuno ha bisogno di tante vite, qualcuno viene da vite passate in cui ha già avuto quel talento e quindi gli è più facile tirarlo fuori. E io questa cosa l'ho sempre avuta. Poi da acquario mi interessano troppe cose e non approfondisco, e questo è un grande difetto di noi acquari. Vogliamo tutto e poi non hai lo spazio e tempo per approfondire. Però io sono sicura che si può leggere nella mente, che si può conoscere il futuro, che si può vedere l'entità, io le vedo, è l'entità qualche volta, che si può entrare in contatto con il divino, con quello che vuoi. Cioè l'uomo è fatto per, com'è? Per l'accanoscenza, diceva Dante. Per vivere come brutti. E noi siamo qui per imparare e per attivare i talenti, ognuno il suo. Allora, pensa, persino io avevo una gatta, per esempio, che era telepatica, e l'altro giorno una mia amica mi diceva sì, anche il mio cane è telepatico, perché gli animali spesso sono telepatici. Quindi comunicano attraverso immagini e sensazioni. Quando sono andati nello spazio, la NASA, il primo viaggio, ha fatto dei corsi con le carte Zenner di telepatia agli astronauti, perché la telepatia è un linguaggio universale, perché tu non parli attraverso la lingua, ma parli attraverso immagini ed emozioni. Quindi tu rispondi a un alieno e puoi parlare con lui attraverso la telepatia. Infatti gli astronauti erano allenati, tanto che Mitchell, quando è tornato dallo spazio, dopo due anni che è tornato dallo spazio, stiamo parlando degli anni 70, o primi 80, non mi ricordo, ha fondato un istituto, mi viene esale, ma non esale, adesso mi viene in mente, perché il mio cervello non è connesso, ha fondato un istituto dove ha cominciato, dove ha chiamato studiosi dall'ingegnere al medico, al pranoterapeuta, al medium, per studiare ufficialmente queste facoltà, perché anche lui aveva avuto dell'esperienza nello spazio di connessione con il tutto, di percezione. E io adesso faccio corsi, facevo con il lockdown, facevo corsi soprattutto di reincarnazione, perché è la cosa in cui io mi sono specializzata da 40 anni. E adesso, in fase lockdown, io non sono capace di star ferma, sto facendo un corso online per lo sviluppo della sensibilità, perché sono convinta. Intanto si avvicinano delle persone già sensibilizzate, perché se tu non ci credi, non vieni. Chiaramente. Tagliato con l'aspetta, fai altre cose, no? Ma sì, no, 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 ma neanche, gli apparirebbe neanche per caso, diciamo, il tuo evento, proprio perché cerca altro sempre. Non lo legge neanche. Ma sì, assolutamente. Sono tante le persone che hanno delle sensibilità, diciamo, non dei poteri, delle sensibilità. E queste sensibilità possono essere coltivate, con la meditazione, con gli esercizi, ma anche semplicemente con un'attenzione diversa, perché noi non ascoltiamo, ma noi riceviamo un sacco di input dal mondo interno, dalla mente e da altre dimensioni. Ma se noi stiamo nel cervello sinistro, io ho sempre detto, ridendo, che noi siamo nell'epoca del cervello sinistro, quindi della razionalità, che ovviamente ci vuole. Ma se tu non sai ascoltarti, non riceverai mai non solo la medianità, ma neanche la creatività, l'intuizione. Infatti. Cioè, siamo dei robot, in qualche modo. Ed è un mondo affascinante. I bambini, gli animali, i bambini piccolissimi sono telepatici, spesso, non al 100%, spesso. Ci sono anche gli animali scemi, gli animali poco evoluti, gli animali... Io con la mia gatta magica, che avevo prima di sposarmi, io la chiamavo, con la mente, lei arrivava da un'altra stanza. E una volta mi è venuta in braccio, l'ha fatto per tre giorni di fila, alle quattro del pomeriggio, poi non l'ha mai più fatto. È venuta lì, mi ha dato gli occhi e si è fatto ipnotizzare. Mi ha chiesto. E io ho visto con i suoi occhi come se fosse attraverso un grand'angolo. Bellissimo. È stata una scelta unica, ma lei era... si è sicuramente rincarnata come persona, perché era una gara. Te ne racconto una che racconto sempre. Siamo in campagna, lei prende un topo che le scappa e io le dico Miccia, sei un'imbranata, non sai neanche prendere un topo e vado in cucina a cucinare. Sento bussare alla porta di casa, apro e sul cestino c'è un topo morto. Ah! Quindi proprio come vedi ce la faccio. Hai capito? Sì, sì. E questa è una cosa che per noi è quasi umana, perché lì c'è stato un ragionamento e un adesso ti faccio vedere io. Quindi per noi non è una cosa animale, ma ci sono degli animali più evoluti che pensano, non leggeranno mai la Divina Commedia, non leggeranno mai... No, però lo capisci che sono diversi dagli altri, assolutamente. E quindi noi usiamo meno del... Allora, noi abbiamo, tu sai che abbiamo un cervello destro e un cervello sinistro. Il sinistro è quello della... Aspetta perché stavo invertendo le mani. Il sinistro è quello della razionalità e il destro è quello della... analogico si dice, quindi il pensiero intuitivo. e noi usiamo... E la scuola ci insegna a usare soprattutto... Almeno ai miei tempi, adesso non so quanto è cambiato, non moltissimo, a usare soprattutto il ragionamento. Ma quando tu fai un tema, quando tu fai un disegno, quando tu ti metti al pianoforte, tu usi il cervello destro, che è quello della creatività. Esatto. E la creatività ha una grande connessione con la sensitività e la medianità. Ed è un mondo affascinante perché ti si aprono... Cioè, noi adesso sappiamo che tutto è maia, è tutto illusione. Noi non siamo quello che vediamo, ma siamo tutta una serie di particelle aggregate. Quindi siamo... ma come dicono gli indiani, siamo illusione, come dice la fisica quantistica. Esatto. Noi siamo un pensiero, siamo un campo di informazioni che però, siccome è aggregato, noi ci vediamo come corpo fisico, ma non lo siamo perché tra gli elettroni ci sono degli spazi infiniti, no? È vero. Ecco, allora, noi usiamo meno del 10%. Se noi ci mettessimo a utilizzare l'intuizione, la creatività, noi attiveremmo molte più doti intuitive di quelle che non usiamo. Steiner è stato, può piacere o non piacere, ma è stato un grande iniziato, sensitivo, medio, può aver detto anche delle cose sbagliate, ma era un genio. Lui faceva a scuola, tuttora nelle scuole steineriane, faceva lavorare con le mani, il marmo, il rame, il legno, oltre che la pittura, oltre che le cose artistiche, perché attivano il cervello destro. Quindi il lavoro, anche l'uncinetto, lavorare l'uncinetto, tu esci dal pensiero razionale e entri... Sì, perché è una forma di meditazione se ci pensi, no? Perché stai lì e proprio stai concentrato nel qui e ora e quindi ti arriva. Esatto. E quindi, in realtà, non è così difficile, però bisogna avere l'intenzione. per esempio io... E soprattutto non bisogna sottovalutarsi, perché poi se non si ha fiducia nelle proprie possibilità, non dico capacità perché la capacità la vedi dopo, chiaramente se non credi in te stesso non le sviluppi. No, no, ma chiudi e se arrivano dici che è un caso. Esatto. Le cose, dici che è un caso, un'allucinazione che non è vero che te lo sei inventato. E la sensitività è straordinaria, ma io lo dico da 40 anni. Tu pensa a un medico che sviluppa queste capacità di vedere dentro il corpo umano e di ricevere dei messaggi sul paziente. Lui individua più velocemente il problema psicofisico della persona, poi lo manda a fare gli esami del sangue, lo manda a fare gli esami clinici, non è che... Però lui ha già degli elementi per sapere da che parte andare. Io ho un'amica per esempio un medico che non è che abbia grandissimi doti, lei fa ecografia, ma quando lei fa ecografia sa, sente, magari il medico la manda a una persona perché pensa che ha un tumore e lei sente che non c'è, prima di vederlo che non c'è niente o viceversa. Cioè lei sente lo stato del corpo. Quindi se i medici aprissero queste facoltà, l'altro giorno mi raccontava una signora che in un ospedale un medico doveva amputare una mano e ha amputato quella sbagliata. Purtroppo succedono queste cose. Anche quando mio marito è stato operato agli occhi a una persona hanno operato l'occhio sano invece di quello malato. Allora da quel giorno ha messo il cerotto sull'occhio per ricordarsi qual era l'occhio. Allora se tu sviluppi l'attenzione, la volontà, la memoria e un'intuizione tu sei bravo, sei un bravo. Io avevo un amico che non c'è più che era primario di ginecologia che dava il prana senza dirlo ai suoi pazienti e aveva delle percezioni, aveva una marcia in più. Era un uomo con una marcia in più. Hai capito? Come tutti i grandi perché tutti i grandi erano iniziati, erano sensitivi. Leonardo, Dante, Goethe, Mozart, insomma posso farti un po' di nomi. però una volta non si usava la parola medium e poi anche l'iniziazione era un iniziato dei fedeli d'amore ma a scuola non te lo sanno neanche i professori non lo sanno neanche per cui è una cultura che non viene tramandata. Pitagora, Platone, insomma ci sono tutti questi grandi personaggi che sarebbero grandi anche oggi. E noi abbiamo una cultura limitatissima, non ce le dicono le cose a scuola, studiamo una parte, la parte che fa comodo, insomma, studiamo per ripetere, ma noi abbiamo delle possibilità infinite. Noi non vogliamo perché non sappiamo di avere le ali. Cioè, adesso, è proprio così. se tu non sai non provi neanche. No, certo. Vedi, vivi in un mondo molto ristretto. E i bambini purtroppo che vedono soprattutto negli anni passati o in certi ambienti vengono, vedono e del tipo magari vedono le fate per dire e la mamma può dire sì sì, gioca, gioca, è una bella fantasia. oppure dice mamma, guarda che qui c'è il nonno. Sì sì, ma smetti di dire queste cose se no ti mandano dallo psicologo, dallo psichiatra, dall'esorcista. E il bambino poi perde tutto. Certo. Perse un po' meno. Il bambino prima non parla più e poi dimentica perché c'è un'età in cui il bambino deve entrare nella sessualità nella razionalità nel mondo e se gli hanno castrato se gli hanno tarpato le ali e poi il bambino vuole essere accettato quindi è diverso al problema che i diversi non sono accettati fanno paura e chiudono questa possibilità ed è un mondo fantastico è un mondo guarda io lo dicevo ieri sera degli amici ognuno di noi passa nella vita dei momenti difficili no? Perché hai in amore con i figli con il lavoro hai delle frustrazioni hai delle fatiche ci sono dei lutti cioè ognuno di noi deve passare da alcuni a volte da dei momenti molto difficili scopri delle cose meravigliose scopri che abbiamo delle entità che ci seguono che ci vogliono lo pensavo non pensavo a te lo pensavo in strada è una cosa che vorrei sviluppare perché è una cosa che mi è arrivata stasera mentre tornavo a casa noi abbiamo intorno a noi delle anime che ci amano di un amore vabbè anche sulla terra però sulla terra c'è il possesso c'è la gelosia sì è più limitato diciamo è più limitato quello che dici tu è più un amore incondizionato perché è libero da tutto brava abbiamo delle anime che sono i nostri parenti le guide gli angeli insomma sia delle entità molto evolute ma anche i nostri genitori i nostri nonni quando vanno di là non hanno più i limiti dell'egoismo si rendono conto dei propri errori e si accorgono che il valore uno dei valori base della vita di qua e di là è l'amore c'è un grande amore nei nostri confronti che noi non sentiamo se non ci apriamo e quando tu lo avverti noi non siamo soli siamo seguiti amati guidati però siamo sai cosa diceva Gesù diceva beati chi ha gli occhi per vedere le orecchie per sentire e noi siamo ancora sordi e ciechi ma quando ci mettiamo su questo cammino di attivazione delle nostre facoltà incominciamo a renderci conto che c'è molto di più di quello cos'è che diceva Shakespeare ci sono più cose in cielo Orazio sì sì è vero la frase sì però adesso non me la ricordo ci sono tante cose Orazio che noi non possiamo vedere né capire ma è così Shakespeare era sicuramente un iniziato sì diceva che il mondo era un palcoscenico no? lo è diceva anche Pirandello quindi così ma è così che una volta ho fatto una conferenza che si chiamava i registi dell'aldilà e ho immaginato noi che giochiamo giochiamo come dicono gli indiani play cioè in realtà giochiamo nel senso che recitiamo una parte senza saperlo e di là ci sono dei registi come dei burattinai che tirano i fili e fanno fare degli incontri degli incidenti e guidano le nostre vite senza che noi ce ne accorgiamo le avevamo chiamati i registi dell'aldilà e un po' è così è un po' di là veramente a volte a volte ci guidano e noi non ce ne accorgiamo e fanno accadere le cose che ci servono per la nostra evoluzione sia le cose belle e a volte delle cose delle prove per darti uno scossone riprendi la strada ecco brava per la tua evoluzione non è mai una punizione no 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 non è per quello assolutamente noi dobbiamo fare una noi dobbiamo fare un cammino di evoluzione e se non lo facciamo in qualche modo ci richiamano per esempio ci sono delle persone che vanno in coma e vedono il tunnel vanno nell'aldilà vedono i propri cari e a volte devono passare attraverso questa esperienza che è bella quando sono di là un po' meno quando torno nel corpo perché magari hanno un incidente magari poi c'è una sofferenza fisica ma chi torna cambia totalmente il registro della propria vita del proprio modo e ce ne sono tante di testimonianze è vero sono tantissime sono tantissime e non ci sarebbe bisogno dell'incidente se noi cercassimo di vivere più in linea con il nostro destino la nostra anima quindi perché ci ascoltiamo poco siamo sempre troppo presi dalla mente dai pensieri dai problemi e da da come andare avanti su qualsiasi cosa e trascuriamo quello che magari è nel nostro cuore cosa siamo comportati che ci renderebbe più felici ci riuscirebbe anche meglio dovremmo essere più in presenza più centrati per cui io posso è chiaro che se io vado in ufficio e ho una pratica legale da svolgere ho un compito qualunque cosa faccia sono un barista e devo non so devo seguire il pubblico è chiaro che ci sono dei momenti in cui io devo pensare al lavoro che faccio ma se io sono presente intanto lo faccio con più amore e con più svietà e poi posso regalarmi la mattina o la sera dei momenti per la meditazione per l'ascolto c'era nei miei corsi facevo fare un esercizio che noi facevamo dai bambini da bambini che è l'esame di coscienza allora facevo pensare però un pochino più evoluto facevo pensare alla giornata no? sì che cosa non è andato bene allora non solo ho detto le bugie ma cosa ho provato mentre ero a disagio e perché ero a disagio con quella persona e come avrei potuto fare per non esserlo quindi inquadrare tutte le cose che non andavano sia se mi ero comportata male sia se avevo subito e guardare come avrei potuto risolverlo in modo positivo sì 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 proprio guardare come se fosse una scena dal di fuori quindi stai guardando un film e dici ok si poteva fare altrimenti brava e questo ti fa cambiare l'atteggiamento chiaro quando fai questa cosa dici ok io ero non so mi sentivo inferiore perché mi sentivo inferiore adesso va bene mi metto aspetta sto prendendo una posizione di potere io non sono inferiore a te sono uguale se mai ma inferiore no no certo viene dalle vite passate questo eh e viene da una famiglia che non ti ha mai detto bravo che ti ha sempre detto che non eri altezza che gli altri sono più bravi di te quindi tutte le cose che ci accadono hanno una chiave psicologica legata alla famiglia legata all'infanzia ma una chiave anche karmica sì sono sono due chiavi però diciamo non antitetiche sono due chiavi di lettura di allora io mi sento inferiore allora cosa faccio per sentirmi superiore mi trucco bene canto rido e recito faccio psicodramma io sono non sono una serva sono una principessa recito la principessa e scopro che dentro di me c'è la capacità di andare verso gli altri in un modo diverso quindi ci sono tante chiavi interessanti per affrontare la nostra vita tante e guarda io lo dicevo ieri sera noi siamo in un momento molto difficile perché la gente è molto spaventata sono tutti chiusi in casa tutti cioè una metà spaventata e una metà che se ne frega eh sì non c'è una via di mezzo capito e dovremmo vivere con più consapevolezza dovremmo vivere meglio perché la vita è molto bella nonostante i politici nonostante le banche nonostante le case farmaceutiche nonostante i casini se posso usare queste espressioni la fatica di vivere ma se tu ti metti sul tuo cammino tu ricevi degli aiuti che non ti immagini neanche ma devi essere sul tuo cammino devi fare quello che è dentro di te e ognuno di noi sa cosa è venuto a fare non è venuto a fare quello che volevano i genitori o la società è venuto con un suo compito che potrebbe essere anche fare guarda io a Roma ero in casa di amici una casa con piscina a Roma non mi ricordo dove ed è arrivato al faligname a consegnare una panca e aveva un aveva delle foto delle cose che faceva aveva un append di abiti al posto delle cose per appendere c'erano tante facce di persone e c'erano delle cose assolutamente artistiche cioè lui faceva il mobile la sedia la panca sì però lo faceva in modo particolare creativo sì certo molto creativo allora una persona così è geniale anche se è una persona modesta anche se è limitato rispetto al grande pittore il grande scultore ma è creato però ti dà comunque un'emozione perché quando vedi quello che crea e lui si realizza in quello che fa perché fa delle cose molto particolari ma vale per qualunque mestiere vero cioè la sai la storia c'è uno che sta andando a Parigi e incontra tre scalpellini che stanno tagliando delle pietre e a uno gli dice il primo ma cosa stai facendo? non vedi sto tagliando una pietra l'altro sta facendo la la cosa e gli dice cosa stai facendo? sto tagliando una pietra che servirà per costruire una chiesa e al terzo dice cosa stai facendo? ma non vedi sto costruendo una cattedrale tre fanno la stessa cosa la stessa cosa però la visione è diversa perché certo l'altro fa qualcosa di utile e il terzo sa di essere un elemento indispensabile per fare una grande cosa esatto e ognuno di noi è una rotellina di un grande ingranaggio che è l'umanità che poi adesso non ampliamo gli altri pianeti perché in realtà l'ingranaggio è molto più ampio però rimaniamo coi piedi sulla terra che è più semplice ognuno di noi qualunque cosa faccia il giardiniere lo scalpellino l'ingegnere l'insegnante ma anche quello che chiede l'emosina siamo tutti attori come dicevi tu prima ma di un grande disegno e ognuno di noi può vivere senza l'altro perché l'altro è un aspetto che mi riguarda uno cattivo questa è un'idea di un personaggio un po' particolare quello che ha inventato l'acqua diamante Jean oh Dio vabbè Ducation e lui diceva quello che è cattivo ti fa un piacere perché incarna la parte oscura che così tu la vedi e tu non l'agisci non so se è vero ma è molto interessante si contro te e tu puoi essere uno stimolo che fai Reiki e tu puoi essere uno stimolo così lo imparo anch'io perché mi interessa oppure dire no non è la mia strada la mia strada è un'altra e prendo coscienza che io invece del Reiki devo fare il Tai Chi o un'altra cosa certo per cui siamo tutti neuroni specchio siamo tutti specchi uno dell'altro siamo tutti indispensabili più o meno adesso e siamo tutti necessari per andare avanti sul nostro cammino se non ci fossimo il disegno non sarebbe completo no perché non potremmo mai fare esperienza da soli no quindi non è possibile l'Evrovio di più mi fai venire in mente la chiesa ci ha dato il senso del peccato che in Oriente per esempio non c'è ma se io non sbaglio come faccio a sapere che quello è un errore esatto io tradisco mia moglie o mio marito e c'è un casino perché o c'è la separazione o c'è il dolore o c'è qualunque cosa ma io come faccio a capirlo se non sono mai passato da quell'esperienza e penso che sia normale che un uomo e una donna debbano essere libri che forse lo è ma insomma non lo so io devo passare dall'errore come faccio a sapere che il fuoco scotta se non mi brucio sì esatto a farmi male anche una piccola scottatura come faccio a sapere che hai sbagliato una certa cosa se non ci passo quindi il peccato è quando tu lo fai consapevolmente certo una persona sapendo proprio per cattiveria fare del male una persona proprio di proposito sì sì e hai un'evoluzione animale legalmente è sempre da punire legalmente e moralmente però tu non sei in grado di capirlo non sei in grado quando io ero molto giovane che lavoravo a gioia quando ho iniziato a lavorare c'erano avevamo fatto con una mia collega una grande inchiesta sullo stupro perché nella periferia milanese c'erano tanti casi anche poco denunciati e quando siamo andati in tipografia per chiudere una volta c'era il piombo adesso c'è il computer una volta c'era il piombo il capo redattore il capo lì dello stabilimento ci disse che era un bel uomo tra l'altro non era neanche aveva anche una certa cultura ci disse ma quante storie che a voi piace ma lo stupro non è sesso lo stupro è violenza e tutti uomini avevano quest'idea che tanto 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 ci piace come si dice per cui tu devi passare dall'errore per fare l'esperienza se Adamo ed Eva non avessero mangiato la mela non ci sarebbe stata l'umanità ci sarebbe stato solo i campi elisi per dire per cui bisognava passare di lì ecco ti stavo dicendo una cosa importante allora tu pensa al medico che ha le intuizioni e le mette nel lavoro lo psicologo sente dove deve andare a parare dove dove deve lavorare di più io per esempio mi ricordo ah io sento le bugie per esempio sento persona autentica o no sento le bugie le sento le vedo non so come dire e lo stesso vale per qualunque lavoro un creativo un pittore riceve e uno scrittore ricevono anche delle intuizioni da altre dimensioni sì lavoro qualunque lavoro un insegnante capisce di più i ragazzi se ha l'intuizione no tra marito e moglie con l'intuizione c'è il sentire meglio l'altro cosa vuole cosa uno può fare certo ci si può più venire incontro facilmente perché non c'è io sono io e tu sei tu perché poi sento se magari ti sto facendo qualcosa di sbagliato perché sento quello che tu provi e quindi mi calibro però è una cosa importante io sono io e tu sei tu io sono fatta nel mio modo tu sei sì assolutamente quello comunque io sono diverso ma ti voglio bene quindi io sono io tu sei tu ma io faccio un cammino con te ti rispetto e ti voglio bene hai tirato fuori una cosa importante perché è un esercizio importantissimo della di Assagioli Roberto Assagioli ha fatto la psichesi no no l'ho tirata fuori così perché mi è venuta fuori così subito era un allievo di Freud poi di Jung sì sì che ha la spiritualità nella psicologia quindi ha aumentato ha ampliato la visione dell'uomo e quindi questa è stata diciamo è stata la mia prima la prima parte della vita e la prima parte degli interessi poi ho scritto tanti libri sui poteri dell'anima siamo tutti diventati sensitivi e poi però sono volata sulla vita dopo la vita sull'aldilà la medianità e soprattutto la reincarnazione che è il mio campo di battaglia quello a quel tempo di più però noi persone dividiamo tutto no è come i medici che se tu fai il cardiologo vedi solo il cuore poi tu fai solo l'unghia sinestra e un altro fa solo l'unghia destra certo e abbiamo perso quest'idea dell'unità perché in realtà è tutto uno è tutto un grande campo che è l'uomo e hai vari aspetti da studiare no perché sì abbiamo bisogno di mettere delle etichette ma siamo un'unità noi siamo un'unità siamo immagine e somiglianza di Dio e ce ne renderemmo conto di più usando la sensibilità perché ci sentiremmo più in collegamento con l'altro pur restando noi stessi però saremmo più propensi a a sentirci più nel tutto sia con l'universo sia con le altre persone con le altre persone sì ma sai noi siamo in un'epoca apparentemente molto brutta e in realtà io continuo a incontrare delle persone bellissime sempre di più sempre di più consapevoli sempre più persone che stanno facendo un cammino e siccome noi siamo delle calamite noi siamo e le persone e le esperienze che ci servono e le persone che sono in sintonia per cui in questa parte ultima parte della vita che è una parte bella della mia vita io continuo a conoscere le persone bellissime Angela ma veramente belle e indipendentemente dal livello sociale dal livello culturale certo tante persone io le dico le persone in cammino le persone che vogliono crescere che vogliono capire ma sono tante tante sì ce ne sono sempre di più è che purtroppo diciamo il mondo urla un po' più forte diciamo così e quindi forse si notano meno però chi è come noi e sta in contatto con le persone di un certo tipo e se ne rende conto ce ne sono sempre sempre di più come dici tu senti non importa cosa fanno gli altri no no assolutamente centrati sui nostri ideali non importa se gli altri si comportano guarda io ho avuto un'esperienza di una persona che prendeva le mazzette per esempio adesso non non entro nel particolare e un giorno mi ha detto scendi dal pero perché tutti fanno così e io ci sono rimasta male perché credevo che questa fosse una persona onesta e invece non era e poi ci ho pensato bene e ho detto ma a me non interessa come va il mondo io voglio essere voglio seguire quelli che per me sono i miei ideali tutti rubano tutti sono collusi tu sei in una città dove questa è all'ordine del giorno tra i politici e a me che me frega io devo seguire la mia strada e allora se tu fai una strada diritta poi hai dei feedback positivi ti arriveranno delle esperienze positive cosa importa se il mondo è corrotto è un problema loro infatti io cercherò perché io scelgo chi frequentare che vita vivere che principi avere morali assolutamente e di conseguenza tutte le esperienze che attiriamo sono più in linea con la nostra vibrazione è giusto così poi guarda questo è l'assenso del karma che però vuol dire azione non lo usiamo come destino tu hai di ritorno quello che hai fatto allora tu hai rubato arrivano i ladri in casa e ti portano via tutto devi restituire quello che hai preso tu sei stata una madre non tu Angela sì 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 in generale una madre disgraziata che non ha mai preso cura dei suoi figli e avrai una madre che non si prenderà cura di te ma se tu sei una persona corretta che vive con dei principi sani avrai un riconoscimento in questa o nella prossima vita di quello che hai fatto hai dei ritorni io ho cercato di essere una persona onesta credo di esserlo anche stata onesta anche nello scrivere di persone in cui credevo anche non onesta con i soldi solo con i soldi e mi è capitato una volta di andare in un convegno di medici e scienziati che mi conoscevano e mi hanno restituito il fatto che io sono conosciuta perché sono stata coerente con il tipo di cioè tu dici non si fuma e se non si fuma non fumi neanche tu no infatti devi dare l'esempio certo non sono nessuno Angela sono una persona in cammino però ho cercato di essere coerente e in questa parte della vita io ho tanti anni ne ho tanti ma io ho dei ritorni di grande gratificazione da parte non della non delle televisioni non dei giornali una volta facevo più televisione adesso sono più la faccio io la faccio come fai tu sul mio canale sì ma ho dei ritorni di come si può dire sono una persona ammirata da un certo tipo di persone perché sono stata coerente e ho cercato di dare ma non mi sto avvantando perché poi sono piena di difetti sono una invadente sono non sto zitta parlo quando non devo ma va bene anche questo fa parte di te sono una persona cioè tolgo la parola le persone però ho cercato di portare avanti i miei ideali sì e lo farò finché sono qua finché sono sana di mente e penso e lo insegno a seguire la strada che perché io lo dico sempre noi prima di scendere firmiamo un contratto ci mettono un foglio ovviamente è una metafora ma ci mettono un foglio davanti e dicono adesso tu scendi in quella famiglia e non puoi scappare non puoi scappare da un benessere quella è perché ti serve per capire qualcosa che tu prima non avevi capito nel bene e nel male poi ci sono delle cose dove hai libero arbitrio hai delle esperienze belle e brutte da cui devi passare per capire e poi firmi che un certo giorno lasci il tuo corpo e ritorni a casa e ognuno di noi questo contratto ce l'ha dentro nel DNA ce l'ha nel proprio nel DNA nell'inconscio se vuoi usare un'altra parola ma noi sappiamo cosa dobbiamo fare della nostra vita noi lo sappiamo basterebbe far meditazione io lo raccontavo proprio a degli amici l'altra sera quando io avevo otto anni quindi in terza l'alimentare ho fondato un giornale e facendo ah già cominciato presto tu da giornalista ho fatto cinque anni andavo nello spazio e volevo scriverlo e ho fatto il giornale per scrivere questo sogno io non sapevo che c'erano i viaggi fuori dal corpo che c'erano gli alieni no certo per cui era un sogno per me ero andata su un altro pianeta e ho fatto un giornale che poi stampavo in ciclostile sai ti ricordi sì sì come no e ho fatto tre numeri si chiamava il grillo parlante ho fatto tre numeri dove c'erano dei sogni e poi dei raccontini poi non mi ricordo non mi ricordo e non mi ha aiutato nessuno e l'ho chiuso ma io sono venuta sulla terra per scrivere poi i miei maestri me l'hanno cantata in tutti i modi perché ognuno di noi viene con un compito e molti sanno qual è il proprio compito ma anche fare la mamma può essere un compito se tu non l'hai mai fatto il compito è quello che ti rende felice e quindi come dici tu può essere anche anche fare la mamma perché ti realizzi così non è quello che ti rende felice è quello che ti permette di evolvere diventa certo lo sei consapevole però sei consapevole sì sei felice comunque di farlo anche se per te è un sacrificio ma sei felice sei nel tuo compito lo senti che va bene così e quindi non faresti altro sì è la tua strada è la tua strada e ci sono tante cose perché poi si mischia la psicologia con la spiritualità io da Gandhi ho ricevuto da un film ovviamente non da lui no non ovviamente comunque non da lui questa cosa che bisogna amare tutto quello che si fa è stato un insegnamento che mi ha cambiato un certo modo di affrontare la vita io ho sempre detto che piuttosto di fare la casalinga mi farei la camionista ma davvero per fortuna faccio dei lavori che mi piacciono ma veramente e quando ho sentito questa cosa di Gandhi ho cominciato a prendermi cura della casa in un modo diverso perché uno di noi deve amare quello che fa perché se tu fai con amore non ti pesa no assolutamente e metti un'energia diversa e ho conosciuto per esempio un contadino a un convegno tanti anni fa che parlava con le piante chiedeva quant'acqua avevano bisogno quanto sole e lui era aveva una forma di sensitività di cui non so neanche se era consapevole e comunicava col mondo della natura come una voce per cui lui amava le sue piante e non solo le coltivava perché era il suo lavoro ma le coltivava con amore quindi chapeau come si dice certo qualunque cosa se la fai bene e se la fai bene hai dei ritorni perché la non so anche far da mangiare guarda io faccio da mangiare mi piace ho la scena in tettoro mi piace far da mangiare per gli amici non sono una cuoca sopraffina però faccio delle buone cene io mi ricordo quando mangiavo la messa di redazione non digerivo neanche riso in bianco perché non era fatto con amore era fatto alla catena di montaggio io non scrivo neanche l'insalata perché la vibrazione che veniva messa nel cibo era una vibrazione di noia di fatica di doverlo fare tu metti amore nel cibo e cambia qualcosa c'è una frequenza diversa che te lo fa piacere molto di più che un cibo fatto d'altronde se tu dai amore sai che chi è che per esempio nello Pono Pono tu metti sulle bottiglie non mi ricordo ti amo grazie mi dispiace mi dispiace se tu scrivi questo ce l'ha insegnato Masaru Emoto se tu metti sotto un bicchiere una bottiglia la parola amore l'acqua ha delle frequenze positive mentre se tu metti la parola odio l'acqua ha delle frequenze che magari ti fanno anche ammalare insomma che ti fanno male e queste sono tutte cose quindi la sensitività è fatta anche di una percezione allargata anche dei sensi normali anche del modo di vivere normale cioè dare significato a quello che facciamo dare amore a quello che facciamo e guarda che non è facile non è facile non è facile perché noi siamo distratti siamo portati via dal fare come dicevi tu all'inizio della trasmissione dal fare dalle cose che dobbiamo fare dai soldi dalle incombenze quotidiane dai problemi ma se fossimo più consapevoli se agissimo col cuore la vita sarebbe più facile anche laddove è difficile ma io sono convinta e non parlo per frasi fatte no 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 ma è così poi siamo in un cambio siamo in un cambio frequenziale per cui io ho fatto una conferenza tanti anni fa che ho chiamato il cielo più vicino perché noi siamo in un cambio di frequenze qualcuno dice siamo passati dalla terza alla quinta dimensione però io non parlo di quello che non conosco però stiamo avvicinandoci a un'era più spirituale quindi toccheremo il fondo per forza perché così si può risalire se tocco il fondo finalmente ma certe persone sono già in un cammino di luce sono già in un cammino non perché siano arrivati ma perché tendono al bene tendono a evoluzione tendono all'amore universale e ti assicuro che sono tanti e guarda ti dirò di più il mio giornale è nato sulla tomba di Aurobindo perché lui mi ha detto che dovevo farlo e io avevo giurato nel 2000 mi sono licenziata da Gioia e ho detto io questo mestiere di M non lo farò mai più perché non è vero che è un mestiere di M gli ambienti sono brutti a tal volta perché come tutti gli ambienti di gelosie certo immagino ho appeso il cappello al chiodo come si dice e ho fatto ipnosi ho fatto altre cose sono andata in pensione e buonanotte e quando è arrivato a Aurobindo mi ha detto fallo e io ho fatto il giornale e da quando ho fatto il giornale ho dei regali di nuovi incontri di amici di persone di eventi di situazioni positive e lui è entrato nella mia vita e io ho scoperto grazie a lui anche che noi siamo guidati da tante entità abbiamo i genitori abbiamo i nonni abbiamo i lari penati dicevano noi gli amici umani e poi abbiamo delle entità che vengono non so magari tu stai male e viene un medico tu vuoi scrivere un libro e viene uno scrittore tu vuoi fare quel giardino che mi hai detto che non è tuo ma facciamo finta che sia tuo puoi coltivare i cuori e magari un giardiniere ti suggerisce quant'acqua gli devi dare certo perché c'è una grande costellazione di anime nell'altra dimensione se tu ti apri sono pronta ad aiutarti certo poi ti danno un calcio e ti fanno io sono finita sotto una macchina a 30 anni sì 30 adesso più o meno non mi ricordo 30 34 insomma avevo e poi è finita bene ma ha cambiato la mia vita perché io da lì ho cominciato a fare meditazione ho cominciato a farmi domande quindi è stato salutare anche se apparentemente potrebbe essere grave invece ho una spalla più bassa ma mi ha fruttato dei soldi dell'assicurazione insomma e quindi andrà bene e quindi l'incidente è servito a dare un giro di svolta alla mia vita ma poi se tu ti metti in linea col tuo destino ricevi dire sai te ne racconto una divertente io avevo un maestro che continuava a dire figliola metti in ordine ordine pulizia ordine e io sono disordinata quando sono tornata da gioia mi sono licenziata ho portato a casa 12 scatole di quelle da panettiere quelle di sapone con dentro fotografie fogli tutte le cose dell'ufficio certo e sono rimaste in una stanza della casa mucchiate come se fosse la cantina e lui continuava a dire metti in ordine metti in ordine allora un giorno io ne ho buttate via dieci accidenti dieci robe dieci carte erano tutte carte erano tutte robe ho tenuto le foto metti ho tenuto mi sono arrivati tre inviti per tre televisioni diverse nello stesso giorno certo perché avevi fatto spazio per cose nuove lo zucchero cioè io ho ubbidito anche se in ritardo e loro hanno detto va bene se tu sei in linea con quello che devi fare non ti gratifichiamo poi non importa non era una roba importante cosa vuoi che sia no però hai capito bene che quello era legato al fatto che tu avevi finalmente fatto quello che andava fatto quindi fare pulizia di queste carte insomma per me ovviamente se una persona è in linea con il suo destino e con quello che deve fare avrà delle strade spianate sì certo avrà degli aiuti guarda ci sono delle cose divertentissime che succedono allora io faccio un corso e una persona mi chiama e mi dice ah io vorrei farlo ma non ho soldi e viene al corso dico ah che bello sei riuscita sì perché una mia amica per il mio compleanno mi ha regalato i soldi per andare dall'estitista ed erano esattamente la cifra per partecipare perché il corso lo doveva fare perché il corso lo doveva fare e queste sono cose che succedono avevo un'amica avevo ero molto giovane e vi ero entrata in questo mondo da poco e c'era una portinaia a Milano che faceva il pendolo e aiutava le persone e non si faceva pagare era una donna molto semplice molto umile ma aveva dei doni intuitivi molto forti bene a lei si rompeva una borsetta e quel giorno arrivava una signora con una borsetta mi mancavano i soldi per pagare la luce e magari veniva una persona che aveva che stava bene e diceva guardi le dava una busta e dentro c'erano i soldi della bolletta proprio sì perché l'universo funziona anche in questo modo ma dobbiamo essere in linea certo ok senti allora sabato e domenica prossima che cosa c'è? grazie io ho organizzato online su youtube un convegno che si chiama guarire ci sono 11 relatori uno sono io ci sono oltre a me ci sono 10 relatori che parlano di medicina olistica uno parla anche di emozioni gli altri parlano di varie discipline anche della schiena dei problemi della schiena l'omeopatia l'agopuntura la metamedicina insomma ci sono il rapporto con la natura e se andate sul mio sito www.it scusate www.karmanews.it c'è l'articolo proprio grande in prima pagina dove entrando poi ci sono tutte le spiegazioni per entrare c'è anche un bottone per entrare e pagare ho tenuto una cifra abbastanza bassa perché in questo momento le persone hanno grandi difficoltà quindi io penso che non bisogna esagerare ed è sono belli perché in questo periodo dove i convegni non li possiamo fare a persona non possiamo fare anche alberghi internet è diventato uno strumento di come noi adesso noi due è uno strumento di e ognuno di noi ha imparato a usare questo strumento per comunicare con gli altri è molto carino è il secondo convegno che ho fatto ne ho fatto uno a settembre sulla spiritualità credo che ne farò degli altri ogni quattro mesi ogni sei mesi ne vorrei fare uno anche sugli UFO uno sulla psicologia insomma ne farò degli altri questo è sulla medicina quindi andate su karma news puntiti perlomeno guardate il programma insomma e poi decidete e se sabato e domenica non potete partecipare se vi iscrivete avrete un link che potrete vedere le relazioni comunque differita sì certo perfetto allora ti ringrazio è stato interessantissimo tutto quello che hai detto e soprattutto molto semplice perché è alla portata di tutti poter sviluppare la sensitività e questo ce l'hai fatto capire bene oggi quindi dobbiamo essere disponibili ad aprirci posso dirti una cosa ti faccio ridere quando io avevo 20 anni e pensavo di essere Sartre pensavo di essere una grande intellettuale e ho dovuto imparare a scrivere per tutti cioè quindi con un linguaggio e io ho sofferto molto di questo appiattimento lo consideravo un appiattimento in realtà poi tu in questo modo arrivi a tutti è certo chiunque può capire l'ingegnere è il non so il lavapiatti per dirlo è certo e quindi in realtà quello che io credevo mi sminuisse è diventato è stato un arricchimento in realtà sì in qualche modo sì guardandolo da un altro punto di vista però perché se no era come dicevi tu era un qualcosa che ti sminuiva sicuramente ma dall'altro punto di vista ti ha ampliato proprio il tuo modo di essere e di comunicare e di comunicare soprattutto visto che si parlava di comunicazione in redazione ok dico un'altra cosa perché tu comunichi con le parole ma io quando faccio adesso non l'ho fatto coscientemente uso i chakra ti apro il chakra del cuore il chakra della pancia e alle volte l'intuizione per cui c'è la parola accompagnata dall'energia certo allora vi auguro di farvi delle domande di cercare delle risposte assolutamente sì grazie grazie a te Angela ciao 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 ciao